ciao ragazzi e ciao ragazze oggi nuovo video sui prodotti finiti dell'ultimo mese passato non sono tantissimi però appunto ci tenevo a fare questa tipologia di video che per me è in assoluto la prima sul canale perché voglio farvi anche conoscere quelli che sono un po i miei gusti e dirvi anche se tra questi prodotti finiti ci sono dei top dei flop dei prodotti che ricomprerò sicuramente e altri che invece assolutamente non non mi sono piaciuti come vi ripeto non sono molti però quindi spero sia un video molto breve e conciso e niente quindi solo una cosa prima di iniziare se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi neanche un video e anche perché sono in arrivo dei video succulenti di cui non vi voglio anticipare nulla però stay tuned allora partiamo subito allora partiamo con un prodotto estilissimo che ho finito e nello specifico questa brumisateur è un'acqua praticamente termale spray in questo caso della avian che in questo in questa tipologia è logata chiara ferragni perché era una special edition limited edition e comunque nella versione grande perché la 300 ml questa è stata è stata una monna perché praticamente la mettevo sul comodino vicino a me e serviva per rinfrescarmi prima di dormire e quindi è completamente finita trovo che comunque a parte questa che è logata chiara ferragni perché su douglas quest'estate c'era questa edizione quindi ho preso questa levian la potete trovare in tanti supermercati questa acqua termale ma la potete anche mettere come spray idratante prima del trucco quindi si può utilizzare davvero in tanti modi anche in inverno e non solo in estate come rinfrescante quindi primo prodotto finito questo assolutamente lo ricomprerò la prossima estate perché invece io lo prediligo esclusivamente come acqua per il corpo rinfrescante poi secondo prodotto estilissimo che ho finito è questo gel doccia alla canfora di sbc questo è un prodotto che assolutamente l'anno prossimo ricomprerò perché è un prodotto canfora e mentolo rinfrescante sotto la doccia quindi quando voi andate a fare appunto la doccia sentite tutti i benefici perché praticamente sotto la doccia si sprigiona una freschezza straordinaria e questo prodotto manda praticamente tutto un effetto balsamico assolutamente fantastico questo io l'ho acquistato su tv si in un set ma si può comprare anche sul sito di sbc.uk dove appunto potete comprarlo singolarmente anche in confezione più grande questo prodotto che ricomprerò sicuramente e per l'estate prossima perché è un salva veramente estate sotto la doccia freschissimo e veramente mi piace tantissimo poi un altro prodotto che è estivissimo che ho finito e ne ho finito e ben due confezioni ne ho tenuta soltanto una per mostrarverà nei prodotti finiti perché appunto ne avevo comprato ben due confezioni e però bastava una per mostrarvi questo prodotto che è della linea della casa dermomed io l'ho comprato su l'ho comprato praticamente da eurospin perché c'era uno di quegli stand provvisori quindi non è un prodotto che presumo sia in gamma permanente all'euro spin ma sia uno di quei prodotti che ogni tanto loro ripropongono mettono e in questo caso ho preso questo che è il bagnoschiuma ghiaccio e cocco allora l'effetto rinfrescante c'era il profumo di cocco anche non era molto molto rinfrescante però sicuramente niente male cioè nel senso l'abbiamo usato sia io che mio marito che mio figlio ed è superlativo perché comunque il profumo di cocco più un po di freschezza devo assolutamente dire che mi è piaciuto non è molto balsamico e molto freddo come l'altro però niente male se lo trovate che magari lo rimettono perché appunto non è un prodotto fisso in gamma dell'euro spin prendetelo perché era è veramente molto buono allora altro prodotto estivo che ho finito cioè che assolutamente compro solo in estate è il profumo dolce gabbana light blue allora io avevo ancora metà boccetta quest'estate di questa edizione di dolce gabbana light blue perché poi ho comprato l'edizione sempre edizione limitata di quest'estate ai limoni lemon zest si chiama che potete trovare anche su douglas la trovate magari anche con i disconti in questo periodo so che douglas fa il 20 per cento quindi potete trovarla assolutamente lì allora light blue è il mio profumo dell'estate cioè ogni estate io ripesco light blue e le varie edizioni che fanno l'anno scorso mi ricordo che avevano fatto l'edizione c'era portofino amalfi c'era qualcosa del genere adesso non ricordo ne avevo già finito una boccetta questa è la boccetta che ho terminato quest'estate comunque sto ancora proseguendo con lemon zest ma questo è il profumo che non abbandono mai assolutamente e come potete vedere è completamente terminato e non lo cambierai con nient'altro poi altro prodotto che ho terminato questo non è un prodotto per il corpo però come potete vedere non ce n'è più è una my jolie candle assolutamente comprata da me nessuna sponsorizzazione io ho comprato la glass glass vanille dovrebbe essere gelato alla vaniglia comunque di gelato alla vaniglia non sa è un profumo alla vaniglia non troppo dolce però molto buono e persistente si può tenere anche a finestre chiuse questa candela perché di soia naturale quindi io la straconsiglio se anche in inverno se tenete appunto le finestre chiuse non è assolutamente dannosa perché appunto è una candela di soia io l'ho presa direttamente dal loro sito ho scelto l'edizione con la collana tra l'altro ho ricevuto una bellissima collanina molto delicata e niente sicuramente ne prenderò appena posso delle altre questa qui è durata tantissimo davvero tanto se non forse tre quattro mesi cioè io poi non accendo solo questa accendo anche delle altre candele però comunque questa qua è stata una delle preferite perché non ha un profumo invasivo però al contempo in casa rilascia quelle note vanigliate preziose e molto buona sicuramente consigliata poi poscia altro prodotto più finito è di mediterranea ed è questo stick cell 0 praticamente è uno stick anticellulite che è fatto come gli stick quelli per praticamente tipo i deodoranti ecco tanto per capirci però è uno stick che va spalmato sugli inestetismi della pelle quindi sulle aree più critiche per me è pratico perché io sono una di quelle pigre che non si spalma le creme in questo caso che non fa molto caso appunto spalmarsi le creme anticellulite e quindi questo prodotto qui che vi mostro adesso vediamo si vede se sia abbastanza lo potete trovare appunto sul sito di mediterranea e a volte ci sono anche delle offerte c'è due per uno quindi potete acquistarne due ne pagate solo uno è facile da mettere perché appunto come se voi mi metteste lo stick sotto le ascelle vi mettete lo stick in queste zone nelle aree critiche del vostro corpo ed è uguale certo non è un anticellulite potente però devo dire la verità che fa un effetto fresco rinfrescante mi piace cioè devo dire la verità che ne avevo due adesso finito il primo e apro la seconda confezione poi sempre per quest'estate ho usato quest'acqua profumata della sienne che l'ho terminata anche questo è un prodotto che comunque trovate generalmente al lidl io ho preso acqua profumata zucchero a velo mi è piaciuta molto perché sa veramente di zucchero a velo unica pecca è che non so perché ma appunto appena la spruzzate ha un profumo buonissimo però lascia un lieve lieve senso non tanto di acqua ma leggermente appiccicoso quindi io la ricomprerei perché mi è piaciuta tantissimo però tra le mie acque preferite ci sono anche altre marche devo dire la verità molto buona per il profumo un po' meno buona per la texture comunque so che esistono anche altre profumazioni della stessa della stessa linea che potete trovare sempre da lidl poi altro prodotto finito e straricomprato quindi top è quest'acqua micellare bifase con fior d'aliso allora ne esistono tanti tipi di quest'acqua micellare esiste quella con l'olio di argan quella con la rosa in base appunto alle vostre tipologie e alle vostre esigenze in questo caso quest'acqua micellare bifase strucca deterge rilassa ed è viso occhi e labbra dato a chi indossa lenti a contatto siccome io sono cieca come una talpa e indosso le lenti a contatto questa è molto delicata ed è già la seconda boccetta che finisco e l'ho ricomprata e la consiglio appunto a chi le lenti a contatto ma anche a chi vuole lenire la pelle quindi la pelle molto delicata e perché è buonissima anche il profumo è rilassante proprio un connubio perfetto di relax e struccaggio quindi questa qua promossa tra l'altro da quel sapone o dai persop a volte ci sono delle offerte che da 5 euro e qualcosa la fanno arrivare a 3 euro quindi se le trovate prendetene anche più di una perché vale veramente i soldi spesi poi un altro prodotto che ho terminato e ricomprerò però soltanto più avanti quest'inverno quando farà freddo sono i dischetti revita lash laser x3 questi vediamo ne avevo già parlato in un video dei preferiti questi dischetti appunto contenuti qui all'interno sono dei dischetti con acido glicolico che appunto servono per fare un esfoliazione soprattutto per eliminare rughe è un antietà è un peeling antietà a il 9,6 per cento di complesso glicolico quindi in estate non sono assolutamente indicati perché appunto dopo averli usati dovete usare appunto una protezione solare molto alta perché l'acido glicolico potrebbe far venire delle macchie però in inverno sono perfetti e quest'inverno li ricomprerò perché effettivamente sulle macchie sulle discromie della pelle lavora molto bene lo trovate anche lei la trovate anche lei dai per soppo da acqua e sapone il prezzo si aggira intorno ai 16 17 euro però se le prendete quando ci sono degli sconti conviene perché veramente un ottimo prodotto poi termino e ricompro sempre in assoluto il borotalco invisible quello con microtalco antimacchie praticamente serve per non macchiare indumenti sia bianchi che neri ne ho provato diversi tipi anche di altre linee ne ho provato della nivea l'ho provati della dub tutti però avevano un po un problema che spruzzandoli mi intossicavano cioè mi davano fastidio al naso invece devo dire che questo qui è davvero ottimo perché innanzitutto non intossica poi il profumo è delicatissimo e buonissimo e io ricompro sempre assolutamente questo deodorante perché per me è il top non mi fa puzzare diciamolo più chiaramente perché poi un deodorante ha questo di utilizzo non far puzzare per cui assolutamente un prodotto ottimo se volete anche non macchiare l'abbigliamento perché con tutti gli altri deodoranti c'è sempre questo rischio di lasciare degli aloni sul sui vostri indumenti quindi assolutamente promosso poi un prodotto di makeup è finito cioè proprio non esce più ed ero disperata al giorno che l'ho finito credo no anche perché questo qui è un fondotinta di dolten davvero performante io provo tanti fondotinta bene o male e anche di fascia anche di fascia più bassa però devo dire la verità che questo idralux se potete provare se potete comprarlo lo trovate su kivusi italy è davvero il top cioè pialla voi lo mettete innanzitutto l'importante che voi scegliate la tonalità giusta perché esiste in 4 5 tonalità se non erro io l'ho preso nella tonalità light c'è anche una tonalità più chiara la fair che però non prenderei perché ho visto che è molto molto chiara nonostante io sia una mozzarella per me è troppo chiara è un fondotinta che voi lo stendete vedete immediatamente che fa un effetto piallante proprio perfezionatore della pelle è un po caro perché comunque è quello tra i più cari in assoluto di dolten però anche quello più performante e comunque io ce l'ho da un anno e devo dire la verità che poi non alternandolo anche da tutti i fondotinta io noto la differenza perché questo comunque rimane sempre il miglior fondotinta è molto 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 performante se potete acquistarlo prendetelo perché provatelo perché veramente innanzitutto ha un effetto medio alto come coprenza e però modulabile quindi se voi ne mettete pochino potete ottenere anche una coprenza un po più leggera ma comunque non fa spessore e il risultato che dà sulla vostra pelle è di giovinezza assoluta quindi questo qui non dico che lo ricomprerò nel breve periodo però se dovesse capitare magari un'offerta su kivusi magari un today special value quelle fatte che fanno loro con qualche kit sicuramente lo riprendo poi prodotto che finisco anche questo ricompro sempre sono le ricariche per il rasoio della wilkinson intuition io lo uso ormai da penso più di dieci anni da quando è uscito e perché radendomi sotto la doccia mi trovo tantissimo bene perché comunque mi lascia la pelle morbida e e poi ne esistono varie tipo lo g adesso questo qua era quello coconut milk e almond quindi cocco e mandorla però esistono tante fragranze sono anche quelle per pelli più sensibili quindi se voi vi recate dai per soppo da quel sapone troverete tante tipologie di queste ricariche oppure anche dei bundle con dentro il rasoio e la ricarica e se non l'avete già provato vi radete con degli altri rasoio sotto la doccia provatelo assolutamente perché questo qui io non l'ho mai più mollato dopo averne provati tanti uso sempre questo qui e queste sono tre quattro quattro ricariche dentro che poi vi durano tanto perché non è che praticamente voi ogni volta che vi radete finita una ricarica diciamo che una un rasoietto una ricarica vi dura per due o tre depilazioni quindi comunque per un po lo avete e a volte appunto ci sono anche tante offerte a volte costa anche meno del suo prezzo infine ho lasciato per voi una chicca che ho provato proprio ieri sera e sono rimasta incantata a parte che stamattina mi ha lasciato una pelle veramente luminosissima bellissima ed è questa maschera coreana edge cutie mall cat whitening mask che io ho preso da hyper soap penso che questa bellezza castillo sia la ditta poi magari italiana che ha preso queste maschere e le ha dalla corea e gli ha messo le traduzioni le ha comunque prese per poi rivenderle con il suo logo allora io le ho comprate perché appunto mi spiava erano simpaticissime ero con il mio bimbo per farlo ridere ho detto vabbè prendiamo queste maschere con questi animaletti ripeto l'ho presa da hyper soap e non pensavo ieri sera è stata una scoperta che effettivamente la maschera all'interno avesse la faccia del gattino allora io ho preso il gattino e la pecora ieri sera ho fatto il gattino ed effettivamente è tutta disegnata come fosse come fossi un gatto allora il risultato è stato wow perché a parte ieri sera che mi ha lasciato proprio la pelle super mega idratata ma proprio straordinaria poi stamattina idem avevo la pelle molto più luminosa quindi ecco è questo poi il risultato che conta l'indomani che appunto la pelle abbia tratto beneficio dalla maschera quindi sicuramente consigliatissima voglio provare adesso anche quella pecora che ho comprato so che esiste anche la versione se non erro tigre e forse un altro animaletto comunque esiste in quattro versioni il costo dovrebbe aggirarsi sui 3 euro e 89 se non sbaglio però potete controllare andate da un hyper soap e so che per so fa anche uno shop online quindi se non la trovate non avete un hyper soap fisico vicino potete comprarla anche online a me è piaciuto tantissimo devo dirvi la verità che andrò a riprenderne qualche altra perché appare di altre maschere che ho fatto che lì per lì mi hanno lasciato la pelle bella ma poi il giorno dopo niente devo dire che questa qua ha fatto il suo lavoro io per oggi ho finito i prodotti prodotti sono finiti e vi ringrazio se avete seguito tutto il video è in arrivo il prossimo video tra qualche giorno lo sto preparando per voi intanto vi ringrazio vi mando tantissimi baci e alla prossima